Le due squadre stanno attraversando un ottimo periodo di forma. La Lazio continua la sua strepitosa rimonta, arrestata solo dal passo falso della domenica precedente contro il Bologna, mentre la Juve è reduce da cinque vittorie consecutive. Nessuno può quindi immaginarsi che la vittoria di una delle due possa assumere dimensioni così vaste come il 4-1 finale con cui la Lazio surclassa la squadra di Ancelotti. L'azione straordinaria dei campioni d'Italia e gol di Paul Medvede che fa esplodere l'Olimpico. Il partito Verone, evitato Montero, corre Verone, palla in mezzo per Crespo, lo stop di Petto, Crespo! 3-0 straordinaria di Crespo, 2-0 per la Lazio, combinazione Verone-Crespo da applausi a scena aperta. L'unica nota positiva per i bianconeri, in una serata tutta da dimenticare, nonostante una partita giocata spesso all'attacco e le molte palle gol create, è la prudezza balistica di Del Piero, sempre più vicino a quello di prima dell'incidente. E' partito Zidane, si allarga Treseguet, se ne va Zidane, a sinistra c'è Del Piero, ecco Del Piero, destro, fantastica di Alessandro Del Piero! Gol straordinario di Alessandro Del Piero, partita riaperta all'Olimpico, 2-1! Attacca Pavel Nedved, Nedved dentro per Crespo, ancora Crespo, per Nedved, Nedved sinistra, 3-1! Pavel Nedved, la doppietta di Pavel Nedved sulla combinazione con Crespo! Ancora Castromanna, Crespo! Per Red, perché Red di Crespo, 4-1 dialogo argentino tra Castromanna e Crespo, che ha firmato anche lui come Pavel Nedved della doppietta!